Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Primo Cittadino. Anche stasera siamo in compagnia del sindaco di Fano Massimo Seri. Buonasera sindaco. Buonasera e buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Come sempre vi ricordo che potete intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 oppure inviare un messaggio anche con Whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco, come sempre lei ha qualche risposta da dare in merito alle ultime segnalazioni? Sì, ho fatto il mio compito, è un impegno che mi ero assunto. All'incontro successivo avrei dato risposta alle domande non evase durante la trasmissione precedente. Allora, si era chiesto per la sede Fior di Lotto, avevo accennato, confermo che la sede l'abbiamo individuata. Adesso c'è qualche problemino sull'agibilità, alcune cose che dobbiamo verificare, però l'affidamento è stato fatto. Chiedevano sui tempi degli interquartieri, posso assicurare, sono prudente, però entro l'estate ci andranno le macchine sopra e chi abita lì vicino vede che i lavori stanno procedendo, hanno già chiuso alcune strade per proseguire con i lavori, quindi stanno andando ininterrottamente. E io penso, essendo prudente, che entro l'estate ci circoleranno le auto. La ciclale di Finile sta andando avanti, non voglio dire date, giorni, perché sono... C'è un contenzioso lì per il cavalcavia autostradale. I lavori stanno procedendo, adesso hanno preso il via, diventa una storia infinita. Lì rimane però un problema dove c'è un contenzioso sul ponte dell'autostrada. Però cerchiamo di risolvere anche quello, ma quello va contro la nostra volontà. Nel momento che si risolve noi siamo pronti ad intervenire. Diciamo per quest'estate lo possiamo dire? No, no, no. No, non mettiamo le mani avanti. C'è la giustizia di mezzo, le sentenze, purtroppo i tempi sono quelli della magistratura e non possono essere i nostri. Ok, poi? No, poi mi si chiedeva della nuova scuola Carrara-Cucurano. Sì. Posso dire che entro il 18 aprile, quindi oggi siamo il 6, la gara sarà indetta la gara di appalto. Quindi ci siamo. Mi chiedevano dei giochi negli spazi verdi di Rosciano e San Lazzaro. Stanno facendo un monitoraggio per vedere quelli che possono essere riparati e quelli che non sono più in sicurezza verranno tolti. Poi una signora aveva telefonato per un cimitero di... per una tomba che aveva delle infiltrazioni. O lì era già stato fatto un intervento, in quel caso specifico. Adesso hanno fatto delle ulteriori verifiche. In realtà quella macchia che la signora aveva evidenziato esiste, ma in realtà non si è mossa. Quindi significa che non c'è un'infiltrazione. C'è stata in precedenza e con l'intervento fatto, si è sistemato, non ci fosse un'infiltrazione con le piogge, si sarebbero ripetute e allargate. Quindi questo mi hanno detto i tecnici che sono andati a vedere. Le altre ho risposto tutte in diretta, quindi non ne ho altre da portare all'attenzione. Allora, cominciamo con quelle di questa sera. Direi di partire ovviamente con il tema della sanità, perché mentre Fano si prosegue con questa raccolta firme per richiedere un referendum contro l'ospedale unico e contro la sanità privata. Fra l'altro proprio poco fa ci hanno detto di aver superato ben 2000 firme. D'altra parte continua anche questo dibattito per cercare l'ubicazione giusta per il nuovo nosocomio. In questi giorni è uscita l'ipotesi Monbaroccio. Lei che cosa ne pensa? Rimane comunque fermamente convinto su Chiaruccia o la prende in considerazione? Allora, intanto vorrei dire che in queste ore si stanno raccogliendo firme. Il fatto che si raccogliano firme sono anche un segnale che la città dà. Io non sono mai contrario, non sono mai critico. Devo dire che negli anni sono state raccolte tante firme. Ricordo il consigliere Danna con l'iniziativa che aveva riscolto migliaia di firme. Ma ricordo, io vengo dal Partito Socialista, quando si parlava dell'ospedale a Villa Fastigi, raccolsero addirittura 8000 firme. Però sono importanti perché danno un messaggio, danno un senso di attenzione, un messaggio anche alla politica. E quindi, alcune volte danno forza anche ad un sindaco. Perché per quello che mi riguarda io rappresento questa città e voglio farlo fino in fondo. E' vero che ovviamente un sindaco deve anche cercare di capire quelle che possono essere le soluzioni. Perché deve tutelare anche una serie di interessi. Non ci possiamo permettere di non guardare anche oltre a quelle che sono le situazioni. Perché poi sappiamo che il dibattito è acceso, è sentito. Ogni starnuto che arriva nasce un nuovo dibattito. Un giorno si parla di una cosa, un altro momento, di un'altra. Si crea confusione. La cosa che io mi raccomando è che ci sia chiarezza nell'informazione. Perché anche su questo bisogna essere chiari nell'informazione. Dire cosa significa mantenere due ospedali di base. Cosa significa avere un nuovo ospedale. Perché se non c'è questa informazione, perché poi alla fine la gente giustamente vuole i servizi. Quando si sta male, poi la gente cerca dove c'è il professionista bravo, dove ci sono le strumentazioni e la tecnologia. E devono essere tutta una serie di servizi. Purtroppo nella nostra provincia ci sono tutta una serie di disservizi. Questo va detto e lo abbiamo ripetuto in tante occasioni. E penso che come sindaco in questo senso ho ottenuto le mie posizioni. Ho fatto anche le mie azioni. Però ecco, le cose devono essere spiegate fino in fondo. Capire quelli che sono i costi e i benefici di un'ipotesi. E quelli che sono di un'altra. Perché non vorrei che poi si viaggia solo con le emozioni, con gli slogan, si va verso una direzione e poi il giorno dopo dice ma perché abbiamo fatto questa cosa? Perché ogni azione porta delle conseguenze. Di queste dobbiamo essere consapevoli. La mia posizione è chiara. Io penso che se vogliamo fare una nuova struttura, una nuova struttura deve essere fatta con tutti i canoni in un luogo idoneo. Allora, se come molti dicono non deve essere una questione di campanile, io sono d'accordo, se non deve essere una questione di campanile bisogna fare la scelta, non si può sbagliare. Perché queste sono scelte che riguardano i prossimi cento anni. E va fatta nel posto migliore. Oggettivamente. Io, dico la verità, ho fatto fare anche un lavoro nei nostri uffici, l'analisi sulle varie ipotesi. Chiaruccia idonea risulta. È la migliore in assoluto. È la migliore in assoluto. Fra l'altro è quella che si trova fra l'uscita dell'autostrada e della superstrada. È baricentrica. Cioè ha tutta una serie di elementi che sono inconfutabili. Allora, se non deve essere una questione di campanile o del più forte che prevalica l'altro, quella è la scelta migliore. Però, io ho chiesto alla Regione che su queste cose ci deve essere trasparenza e chiarezza. Allora, una volta per tutte vanno spiegati quelli che sono i costi e i benefici sulle due strutture, sul Santa Croce e sul San Salvatore, su una nuova, su un'eventuale nuova struttura. Io poi, onestamente, anche da cittadino, che è contrario ad una nuova struttura, adesso oggettivamente, che abbia tutte le caratteristiche e dia le risposte vere ai cittadini che oggi non hanno. Perché però non vengono depotenziati ora gli altri due ospedali. No, ecco, questo è un discorso. Poi c'è il tema vero che in questo momento, purtroppo, e io poi voglio, anche qui poi, ognuno qui, c'è sempre, c'è una capacità di fare capriole, di rivedere le proprie posizioni. Io vorrei ricordare che mi sono trovato un treno in corsa. È una situazione che è partita anni addietro. Molte scelte che si sono verificate anche lo scorso anno non è che sono arrivate all'improvviso, non sono programmate. Quindi, questo deve essere ben chiaro a chi magari fa certe critiche, oggi fa certe considerazioni, certe riflessioni. Sono state scelte sbagliate e soprattutto hanno distrutto prima di costruire. Questo è l'elemento, l'errore vero. Perché si è, purtroppo, penalizzato il Santa Croce. Adesso alcune operazioni si stanno facendo perché io periodicamente mi sento anche con il direttore dell'azienda sanitaria e proprio in questi giorni hanno sistemato, penso che sia già attivo, il nuovo reparto di degenza per l'ostetricia. Quindi è una risposta, è un impegno. Arriveranno delle specialistiche e quindi ritorneranno dei servizi importanti al Santa Croce. Per la chirurgia si può fare qualcosa? Sulla chirurgia c'è stato già un protocollo fra la medicina e la chirurgia perché il problema vero qual era? La messa in sicurezza del paziente medico che diventa chirurgico in piena notte. Questa era una questione che ho posto e su questo, devo dire, rimane il fatto anche dell'H24 per quello che riguarda il pronto soccorso. Adesso ho riprogrammato un nuovo incontro perché io periodicamente faccio una verifica sugli impegni che sono stati assunti perché va recuperato terreno per quello che riguarda il Santa Croce perché la gente non smette di ammalarsi quindi le risposte le devono avere immediatamente altrimenti rischiamo di aumentare anche quello che è uno dei lati negativi che è la mobilità passiva sanitaria. Va bene, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Pronto, buonasera. Sono Paola Franceschini e telefono per chiedere al sindaco informazioni circa la zona di Torrette dove io possego una casa da 40 anni. La strada, scusi? Devo dire che questi 40 anni non è che abbia visto. Ecco, non abbiamo capito bene. Devo parlare più forte? Sì, non abbiamo capito. Quale strada in particolare? Quale via si riferisce? Dunque, io parlo della via Ammiraglio-Cappellini che è praticamente il lungomare di Torrette. Sì, sì, sì. Ecco, dunque c'è un problema di viabilità che sicuramente il sindaco conosce e c'è un problema soprattutto di sicurezza per i pedoni. negli anni poco o niente è stato fatto e soprattutto il tratto dal centro di Torrette verso Ponte Sasso ha anche un'illuminazione scarsissima e oltretutto le fronde degli alberi coprono molto spesso i lampioni per cui quel poco di luce viene oscurato. Perfetto. Voglio sapere se c'è in atto un progetto un'idea qualcosa per sistemare questo annoso problema di Torrette? Sì. Glielo chiediamo subito. Sì, il problema lo conosco perfettamente ed è uno dei primi problemi che mi sono posto perché un altro obiettivo che mi ero dato è di dare delle risposte a Fano Sud che per troppi anni non ne hanno avuti. Allora lì c'è solo una soluzione il senso unico perché in senso alternato macchine parcheggiate noi tutta l'estate anche i vigili urbani vengono chiamati da persone a piedi con la carramamme con la carrozzina che effettivamente ci sono situazioni di pericolo. Qual è il problema? Che purtroppo non ci sono accessi intermedi al di là della ferrovia quindi il senso unico creerebbe obbligatoriamente un circuito troppo lungo. Noi abbiamo in programma degli attraversamenti abbiamo in programma a Ponte Sasso un sottopasso però pedonale anche per risolvere la questione di Rio Crinaccio dove attualmente attraversano i pedoni noi abbiamo già provato abbiamo già fatto uno schema di come potrebbe essere la viabilità con dei sensi unici che risolverebbe i problemi perché consenterebbe di asfaltare consenterebbe di fare una bella pista ciclabile e mettere in sicurezza i pedoni però abbiamo un po' di proprio per questa lunghezza lo rende un po' più complicato ecco visto che adesso state incontrando i residenti dei vari quartieri al termine vado proprio per risolvere un altro problema come questo a bell'occhi perché qui purtroppo tutti vogliamo il doppio transito con il parcheggio e nelle strade strette questo non va bene ma poi c'è sempre una lamentela quando si fanno queste scelte col tempo poi in realtà vengono apprezzati insomma ci state lavorando comunque magari sì no il ragionamento è già stato fatto ne abbiamo già accennato con degli operatori perché poi sono a tanti interessi anche di attività ci sono delle problematiche nella soluzione l'illuminazione lì effettivamente ci sono lampioni un po' datati noi abbiamo cominciato un processo di miglioramento dei punti luci cambiandoli anche con punti luci led anche per il risparmio energetico e abbiamo un programma alcune zone però non adesso a torrette ma quello successivo nella prossima programmazione sarà lì non nell'immediato questo però devo dirlo va bene se non sbaglio abbiamo qualcun altro al telefono giusto? sì buonasera 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 sono abitante di Ghiastratelli Zuccheri noi ci volevamo congratulare per questo scogliere che finalmente è riuscito a fare per questa opera che dopo tante battaglie è riuscito a finire ho mantenuto fede a tutto quello che ho detto ho capito ho mantenuto fede a tutti gli appuntamenti che avevo annunciato magari abbiamo slittato di un mese e mezzo quello sì infatti la voleva ringraziare per questo perché è stata una persona di parola e ha mantenuto quello che ha detto mentre altre amministrazioni hanno promesso parlato ma non ha realizzato niente e un'altra cosa dato che l'ultima dato che qua dietro abbiamo la barca che stanno iniziando i lavori l'ultima scogliera quella verso il ristorante La Tratta 8-10 metri di scogliera i scogli sono a rasente dell'acqua praticamente i scogli sono completamente caduti se prende un appunto gli dà una voce a quelli del futone che mettessero un po' a posto anche l'ultima scogliera quella dietro ristorante La Tratta che è un po' messa male solo quello se si poteva se no va bene io adesso lo dirò alla ditta che fa i lavori intanto come informazione lavoreranno fino a fine maggio perché poi c'è l'interruzione per l'estate perché creerebbe dei disagi anche alla qualità delle acque e faranno già un bel lavoro fino a a maggio poi riprenderemo dopo il 15 settembre con l'ultima parte che rimarrà che è quella davanti a Viale Ruggeri e per metà ottobre i lavori saranno ultimati perfetto allora andiamo andiamo avanti dunque questa l'abbiamo fatta per quanto riguarda le asfaltature visto che sono davvero tantissimi messaggi che ci arrivano in particolare da Rosciano ma anche a Ponte Sasso insomma sono diversi quartieri diverse le strade diamo una risposta complessiva giusto per dare 7 maggio inizieranno le asfaltature abbiamo già dato fatto le aggiudicazioni arriviamo al 7 maggio perché voglio ricordare che noi a dicembre abbiamo appaltato 48 gare quindi poi chi segue tutte le procedure amministrative sono pochissime persone quindi si è accumulato il lavoro poi ci sono i tempi di legge tra l'affidamento provvisorio e quello definitivo però il 7 maggio partiranno le 6 ditte che effettueranno le asfaltature nella città di Fani invece tanti altri messaggi ci arrivano per il verde beh adesso con le piogge le prime belle giornate di sole l'erba cresce l'inizio è sempre siccome l'erba cresce contemporaneamente l'inizio è sempre in salita comunque noi abbiamo un appalto biennale la ditta sta già lavorando è chiaro che all'inizio il grosso del lavoro aumenta con l'avvicinarsi dell'estate però ecco hanno già iniziato un po' di pazienza poi arriveremo un po' dappertutto tenendo conto anche delle risorse che abbiamo a disposizione che rispetto agli anni passati è meno della metà certo prima di andare in pubblicità le segnalo anche questo Fano è pieno ovunque di escrementi di cani è una vera vergogna è anche un segno di civiltà quindi il nostro telespettatore fa in primis un appello ai proprietari ma sindaco qualche multa in più in questo senso non farebbe male ha perfettamente ragione perché è un atto di maleducazione anch'io al cane quando vado a fare una passeggiata quelle poche volte che riesco vado via con i sacchettini non fa niente non ci si sporca neanche quindi gli animali sono belli però vanno curati e bisogna avere rispetto alle altre persone io ho già dato dell'input ad intervenire però ovviamente non è facile non è che può esserci un vigile sono tante le persone che sono a passeggio con i cani però ecco se l'input in questo senso l'hanno avuto e con l'avvicinarsi dell'estate chiedono anche dei controlli a sorpresa per evitare la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni ma le forze questo va detto perché i controlli ci sono sono stati fatti sono stati presi dei provvedimenti è una questione seria si parla di tutela dei ragazzi perché qui effettivamente ci sono stati degli episodi che hanno riguardato ragazzi giovanissimi quando parliamo di 13 anni 14 anni il problema è veramente serio non ce lo possiamo permettere però su questo i controlli sono stati severi ci sono stati ci saranno e anche i provvedimenti ci sono stati perfetto con questo ci fermiamo per un istante di pubblicità fra poco bene ben ritrovati in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri sindaco cominciamo subito con le altre segnalazioni molte ci arrivano per quanto riguarda la piscina di Nisal Balai lì ci sono stati diversi problemi e disagi come abbiamo detto l'NTG di questa sera dovrebbe riaprire lunedì 11 settembre senza dovrebbe riaprirà lunedì regolarmente con nuova gestione domani si chiude la procedura definitiva della gara quindi da lunedì tutto regolare certo ci chiedono anche per la fontana di via dello Squero quindi lungo il porto canale effettivamente potrebbe essere una bella fontana lì però dicono che sono anni ormai io sono andato lo scorso anno perché c'erano problemi ricordo anche di ragazzi che stazionavano c'erano stati problemi di vandalismo siamo intervenuti abbiamo fatto alcuni piccoli spostamenti abbiamo tolto il tavolo e non ho avuto più riscontri di quel genere quindi una risposta lì è stata data c'era il problema della fontana che non funziona perché ha un problema idraulico sotto che non era semplicissimo da sistemare perché eravamo andati anche con i tecnici fra l'altro va detto che quella era la fontana che stava al corridone è vero quindi coloro che vogliono un recupero dell'aria attualmente del distributore che sta per essere bonificato stanno lavorando anche in questo momento la rivorebbero portare al suo posto d'origine e adesso vedremo cosa si farà però finché lì bisogna farla funzionare però ripeto c'era un problema tecnico non semplicissimo da risolvere lavori di restauro al cimitero di Ferretto sono in programma? si sono in programma anche questi appaltati come dicevo prima sono 48 le gare quindi abbiamo dato priorità a quelle più urgenti come l'asfaltature la scuola di Carrara Cucurano l'altra gara per le scogliere quindi e a seguire insomma benissimo sentiamo chi c'ha il telefono pronto? buonasera si pronto buonasera buonasera ascolti volevo chiedere al signor sindaco all'attenzione dalla chiesa vecchia di Rosciano andare al cimitero di Rosciano la strada è in pratica proprio una cosa spaventosa non solo ma quando si arriva al cimitero c'è la prima entrata poi c'è quella vecchia che hanno chiuso e poi c'è l'altra la prima se lei va è piena è una voragine di buche possibile che non lo vede nessuno c'è il custode c'è quelli delle pompe funebre che vanno possibile che non lo vedano nessuno io penso che se i morti potessero dire qualcosa e non lo so chi si salverebbe lì hanno chiuso qualche buca a venire dal Codma fino al cimitero ma non è che le chiudono tutto possibile che arrivano lì e non le vedono io non lo so poi un'altra cosa volevo chiedere al Pinobar ci sono quei resti romani no? sì mi segue? beh io oggi passavo quasi quasi ci volevo raccogliere un po' di erba di campo è pieno è possibile voglio dire che non c'è una squadra che controlla anche il decoro della città abbiamo capito perfettamente insomma queste segnalazioni signora grazie mille però vanno tenute un pochino in ordine grazie mille insomma più o meno quello che dicevamo prima allora la strada quella là verrà asfaltata partirà nel pacchetto dal 7 maggio adesso non so se il 7 o il 20 maggio poi in base a dove parte la ditta però è inserita nelle strade da asfaltare lavoraggine all'ingresso del del cancello diciamo lato Fano adesso lo faccio verificare poiché ci passo spesso lì davanti mi fermo anch'io personalmente e guarderò per quello che riguarda il resto il resto che c'è l'erba ha perfettamente ragione ripeto sono le prime con l'arrivo della bella stagione l'erba cresce dappertutto subito quindi noi adesso ci stiamo strutturando anche con una squadra abbiamo richiesto di nuovo gli LSU che lo scorso anno avevamo 7 persone che ci facevano tutti questi questi manutenitori della città esatto ancora non li abbiamo per cui all'inizio non è semplice una domanda prima di passare alla prossima telefonata se è vero che avete fatto ricorso alla corte costituzionale per far tornare Marotta sotto Fano sa dirci più o meno quanto tempo ci vorrà per avere una risposta e questa segnalazione arriva da un gruppo di marottesi che non vuole stare sotto Mondolto immaginavo perché non mi avrebbero fatto una mano di questo tipo la risposta è sì la prima appuntamento è il 16 giugno che però sarà interlocutorio e penso che entro la fine dell'anno poi ci sarà il pronunciamento definitivo che ci dirà se si andrà in Cassazione o meno in corte costituzionale o meno quindi i tempi sono questi sentiamo chi c'è il telefono pronto pronto buonasera 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 signor sindaco prima di tutto gli voglio fare i miei complimenti perché uno dei pochi politici che ci mettono la faccia è a confronto con i suoi cittadini e questo gli faccio molto onore la ringrazio non è facile in questo periodo volevo chiedergli solo se se praticamente sa quando riaprono le terme se quest'anno le riaprono ecco no lì purtroppo le devo rispondere di no perché l'azienda che le gestiva è fallita quindi quelle sono private non sono pubbliche finché non arriverà una nuova società la vedo complicata la cosa però ripeto è un'attività privata da parte nostra c'è tutta la disponibilità a renderci disponibili anche per quello che possiamo fare perché sono un servizio per il territorio anche una risorsa però allo stato attuale purtroppo la società che gestiva le terme è fallita ci segnalano anche via caduti dal mare una strada molto dissestata dunque ci hanno scritto dalla scuola Matteo Nuti di Fano e dicono fanno tanti buoni propositi sul risparmio energetico vedi la giornata minumino di meno promossa da Caterpillar bene oggi 6 aprile e alla Nuti a causa di un insesto di un insessato riscaldamento fuori luogo dato il periodo siamo costretti a fare lezioni con le finestre aperte è possibile controllare Sì fra l'altro alla luce di quanto veniva detto abbiamo alla Nuti abbiamo dimostrato proprio che guardiamo attentamente l'efficientamento energetico perché abbiamo messo tutti i pannelli solari dove rende autonoma l'energia per la gestione della scuola io farò questa verifica perché sono il primo a dire che non va bene quando si deve fare lezione con la finestra aperta perché è troppo caldo però lì la risposta è proprio in termini di risparmio energetico è stato proprio fatto comunque verificherò subito con i nostri tecnici già domani domani sono a Roma ma lo faccio telefonicamente in modo tale che possano subito verificare perfetto ci chiedono di abbellire più o meno è una domanda che le fanno sempre la rotatoria dopo il fiume Metauro che come insomma biglietto da visita per ora non è un granché allora intanto quella rotatoria non la gestiamo noi ma è di Anas detto questo Fano rispetto all'altra città non ha le rotatorie curate con cioè si taglia le erba però non ci sono interventi come ci sono state anche da società private perché nel nostro comune c'è stato un rispetto più ligio delle regole come giusto che sia per carità però io voglio arrivare a questo risultato vorrei arrivare anche nelle rotatorie di Fano con degli interventi anche con Bellendoli e stiamo studiando il modo per evitare questa difficoltà di non poter mettere i cartelli pubblicitari per coloro che fanno questi interventi c'è già un gruppo che ci sta ragionando per come fare e vorremmo arrivare anche a Fano perché effettivamente le rotatorie specialmente quelle all'ingresso delle città sono bene un biglietto da visita perfetto sentiamo chi c'è al telefono pronto pronto buonasera buonasera prego pronto parlo col sindaco sì sì buonasera io sono un pensionato di Fano sono un appassionato del Fano calcio sì da vecchia data cominciamo tantissimi volevo sapere se in caso di ripescaggio speriamo che ci sia volevo sapere se lei il comune siete disposti insomma ad attuare le infrastrutture a migliorarle per poter essere a norma nel campionato di Lega Pro sì intanto anche io sono tifoso del Fano calcio il sindaco non può non essere tifoso ne abbiamo già parlato anche con il presidente Gabellini che voglio ringraziare perché dobbiamo rendere onore anche chi fa uno sforzo come lo sta facendo il presidente Gabellini anche in prima persona per fare in modo che la società di calcio prosegua anche con i buoni risultati che ha fortunatamente se arrivando secondi vincendo i playoff si dovesse andare in Lega Pro che noi auspichiamo fortunatamente gli interventi per come è strutturato il nostro stadio non ha bisogno di grossissime opere e quindi saremmo in grado di poterle fare ci stiamo già guardando attrezzando perché se si fosse trattato di interventi veramente costosi ci saremmo trovati in difficoltà considerato il periodo quindi penso che potremmo essere in grado di dare le risposte che vengono richieste in caso auspichiamo perché io spero che si possa andare in Lega Professionisti già da quest'anno per quanto riguarda la pulizia dei passeggi chiedono se è possibile fare a breve un intervento sì quindi si farà per il torrente Arzilla invece la pulizia però per il torrente è una problematica che riguarda la provincia la provincia che se ne deve occupare sindaco sì è una competenza della provincia ma anche noi abbiamo fatto la nostra parte anche lo scorso anno noi ci facciamo carico non è che deve essere il cittadino che si rivolge alla provincia lo facciamo noi rivendicando quelle che sono le necessità per l'Arzilla non dimentichiamo è previsto un intervento un investimento importante di circa un milione e mezzo per creare una cassa di prima pioggia di raccolta prima pioggia all'Arzilla per migliorare la qualità poi delle acque balnearie che questa riguardo all'ambiente è una bella adesso non lo so dire però penso che vada per la prossima estate ok buonasera mi chiamo Claudio volevo sapere perché nel parcheggio dopo la finanza ci sono quattro roulotte senza targa i vigili lo sanno ma non fanno niente è possibile controllare e accertarsi sarà mai riposizionata e ristrutturata la mitica rosa dei venti alla Sassonia insomma in tanti si ricordano questo simbolo lungo la passeggiata è anche bello poi attinente al mare ai venti non glielo so dire guardi prendo nota e ci faccio un pensierino vediamo se è possibile farlo è una bella cosa quando uno fa la passeggiata anche se Sassonia necessita di un ripensamento e di una riqualificazione complessiva ok via Mariotti via Ninia vorrei dire che però da quest'anno a maggio entro il fine maggio cambieremo tutti i lampioni a Sassonia li efficienteremo e saranno anche di qualità estetica migliore perfetto dunque via Mariotti via Ninia Fano non ci sono i marciapiedi e poi chiedono a Fano 2 quando sarà asfaltata ma insomma per quanto riguarda le strade abbiamo già dato una risposta sì Fano 2 sono una serie di problematiche e lì le affronteremo anche con i residenti i marciapiedi comunque vengono richiesti in diverse vie della città ad esempio via Primo Maggio sì allora via Primo Maggio non so se la signora che ha parlato con me è in ascolto abbiamo trovato una soluzione per un piccolo tratto dove si ferma anche l'autobus perché i marciapiedi sono una messa in sicurezza dei pedoni e sono anche una riqualificazione delle nostre strade però non dobbiamo dimenticare che parliamo di interventi costosi e importanti quindi non siamo nelle condizioni di poter fare marciapiedi in tutte le strade ma si possono programmare nel tempo adesso partirà tra poco la riqualificazione di via Garibaldi la parte alta dove sistemeremo anche lì i marciapiedi e il manto stradale e quindi anno per anno programmiamo dei piccoli interventi in ogni strade diverse ok chiedono per quanto riguarda la via Cristofalo Colombo una pulizia intorno alle piante ma in realtà sono diverse vie che necessitano sono già arrivate delle foto perché sono cresciuti i cespugli sotto le piante adesso li manderemo ieri tra l'altro chiamavo una signora lo stesso la via davanti allo stadio come al solito stesso problema 450 km di strade che non riusciamo contemporaneamente dappertutto sono di Torrette vorrei chiedere al sindaco di abbellire lo spartitraffico di Torrette insomma anche qui si parla sempre di rotatori di abbellire un po' la città così come chiede l'altro nostro telespettatore ma per quanto riguarda il lungomare e lì adesso intanto sistemeremo ho chiesto di sistemare anche il sottopasso di dargli una risistemata perché effettivamente non è in ottimo stato e lì siamo proprio all'ingresso del mare gli uffici mi hanno garantito che insomma l'avrebbero fatto prima dell'estate da noi fanno quindi Lido Sassonia Torrette lo stesso ci sarà qualche intervento? adaltro gli asfalteremo molte strade del lungomare tipo le filzi sì sì questi sono tutti in elenco sistemeremo l'inverno quando c'è stato quel vento forte ha scoperchiato la tensostruttura no la tensostruttura non la sistemiamo se ci sono 50 mila euro non ce li abbiamo diciamo la verità tanto io ho detto non bisogna dirle bugie lo scheletro così si si smontiamo no no lo mettiamo a posto invece sistemeremo abbiamo previsto di sistemare la parte dell'anfiteatro che c'è lì in mezzo al lido tra il green bar che l'estate scorsa era stata smantellata la parte in legno sì perché si era rovinata con un temporale e allora quella verrà ripristinata quella sì perfetto per quanto riguarda invece la darsena borghese anche lì partiranno i lavori abbiamo fatto una conferenza stampa doc quindi e a breve sempre partirà anche il restyling dei capannoni dove vengono costruiti i carri allegorici io prego di mandare in onda eccola qua la fotografia perché questa è la foto che è stata pubblicata su facebook sulla pagina dell'ente carnevalesca e vediamo Luciano Cecchini presidente dell'ente con soddisfazione che firma che firma questo accordo in comune lei si è impegnato per finanziare mi fa piacere perché abbiamo a fine anno siamo riusciti a fare un'economia e abbiamo messo in disposizione le risorse necessarie per metterle in sicurezza perché c'è un problema di sicurezza e anche questa è un'altra risposta definitiva e dico anche che ho un'idea vorrei fare un bel graffito un murales che richiami il carnevale nella parete che dà sulla strada io ho parlato con l'assessore Caterina Delbianco che sta pensando dobbiamo cercare quelle risorse minime per poter fare una cosa che faremo pensiamo di fare un concorso ma ne ho parlato anche col presidente Cecchini quindi quella è un'altra idea che vorremmo sviluppare speriamo prima del prossimo carnevale non estivo ma invernale questa sera dobbiamo terminare qui il nostro appuntamento perché come ha detto prima incontrerà i cittadini residenti di Bellocchi giusto? giusto l'assemblea è già iniziata sapevamo che ero qua ma sono gli assessori che hanno già iniziato però mi sembra giusto che io partecipi che mi assuma anche le mie responsabilità da sindaco l'aspettiamo allora per il prossimo appuntamento con la lista delle risposte io vi sono segnato quindi alla prossima occasione risponderò a tutte le domande grazie di nuovo al sindaco di Fano Massimo Seri per essere stato con noi grazie a voi buonasera a tutti i telespettatori che ringraziamo per averci seguito fra poco manderemo in onda la conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Pesaro conferenza integrale nella quale il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e quello di Emon Baroccio Angelo Vichi hanno firmato un accordo per quanto riguarda la fusione per incorporazione allora buona serata con i programmi di Fano TV arrivederci